I supereroi e i vigili del fuoco volano al reparto di pediatria dell'ospedale Umberto I. Il reparto di pediatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa ha ricevuto la visita inaspettata di un gruppo di supereroi tra i quali Iron Man, Spider-Man, Capitano America, Batman e tanti altri e dei vigili del fuoco accorsi con l'autoscala con una missione importantissima portare allegria ai bambini ricoverati. Grande è stato lo stupore dei piccoli pazienti nel vedere arrivare i loro beniamini con cui hanno condiviso momenti di gioco e di allegria. L'iniziativa nel rispetto delle norme anti-covid è stata promossa dall'Associazione Humanitatis Progressumo con sede legale a Letoianni nell'ambito del progetto ospedali a colori finalizzato a rendere più allegri gli ambienti ospedalieri destinati ai bambini. L'iniziativa si è potuta realizzare grazie al commissario straordinario dell'aspito di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra al direttore del presidio ospedaliero Umberto I, dottor Paolo Bordonaro e al direttore dell'UOC pediatrica dottoressa Maria Assunta Vitale che si sono rese disponibili ad ospitare l'evento nonché al comandante del dirigente del fuoco di Siracusa, ingegner Galfo che ha sostenuto l'iniziativa con l'autolizzazione al proprio personale, libro del servizio e l'impiego dell'autoscala.